Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video, come state? Spero bene. Oggi andremo a parlare di una criptovaluta che mi avete chiesto in parecchi e devo essere sincero, sono molto colpito da questa cripto, non la conoscevo nel profondo, non l'avevo ben analizzata, non la conoscevo veramente, non conoscevo il loro obiettivo primario, che non è quello appunto di dover far crescere il valore della criptovaluta, quanto il loro progetto futuro. Però andiamo con calma, ve la spiegherò bene, andremo a vedere appunto sul loro sito quali sono i loro obiettivi e devo essere sincero, raramente rimango colpito dall'obiettivo di una criptovaluta. Sappiamo bene o male tutti quanti che nel momento in cui una cripto nasce, che sia su appunto sulla smart chain di Binanzo o che possa essere su altri tipi di blockchain, nascono queste cripto da dei progetti, che possono essere diversi progetti. Questa cripto ha un progetto veramente unico nel suo genere, penso non ce l'abbia nessun'altra cripto appunto nel mondo, e ha uno scopo molto onorevole per quanto mi riguarda, che è quello di cercare di aiutare tutte quante le persone, comunque sia, che vogliono denunciare alla propria vita. Però prima di spiegare tutto quanto, vi chiedo come sempre di potervi iscrivervi al canale, mettere un bel like al video e di commentare con il vostro parere, e fatemi sapere più che altro se magari vi è capitato di conoscere questa cripto, se già non la conoscevate, sono contento comunque sia che la riuscite a conoscere tramite i miei video. Bene, senza perderci in ultime chiacchiere, spostiamoci direttamente sul computer e andiamo a vedere effettivamente LifeToken. Ok ragazzi, eccoci qui, siamo sul sito di LifeToken, benvenuto in LifeToken, l'ho già tradotta con il mio potentissimo mezzo di Google Traduttore. Appunto, come dicevamo, il progetto di LifeToken non è tanto quello di far pompare, di far arrivare in alto appunto il valore della cripto, come tantissime altre cripto, quindi di dover sfruttare il pump e poi farla morire, il loro progetto, è un progetto molto forte che prende concretezza giorno dopo giorno. Infatti, ogni 40 secondi qualcuno si suicida. LifeToken è un token orientato alla beneficenza sulla Binance Smart Chain. Il nostro obiettivo è aiutare gli enti di beneficenza per la prevenzione del suicidio in tutto il mondo per aiutare e salvare i video umane. Questo qua è veramente un obiettivo molto onorevole. Dove si può acquistare ad oggi LifeToken? Andiamo subito a vederlo, si può acquistare appunto su CoinGecko, su Nomix, su PancakeSwap e su BSC. Andiamo a vedere innanzitutto, beh, passo passo, perché come tutte quante le cripto, anche loro hanno comunque sia un loro roadmap, un loro white paper e hanno anche un audit smart contract. Andiamo a vedere tutto quanto. Intanto questo qui è l'importo che hanno raccolto per la prevenzione del suicidio. 502.791 dollari, sono veramente tanti. Il valore ad oggi, per quanto riguarda appunto il token, è di 0.00007.500 e coce. Titolari ad oggi sono 6.166. La liquidità è oltre 30.000 e il cap di mercato, quindi in cui sia il loro valore di mercato, è di 698.316 dollari. Il tokenomics come funziona? Quindi come funziona quando si investe, quando si compra questa cripto? Il 5% di quello che investiamo viene ridistribuito a tutti i possessori. E fino a qui, bene o male, è come appunto abbiamo già visto in altre criptovalute. Un 3% viene donato settimanalmente a enti di beneficenza per la prevenzione del suicidio. Infatti una quota del nostro token che noi abbiamo settimanalmente viene donata. Una commissione dell'1% viene riservata al marketing e alla promozione, quindi comunque sia si autofinanzia tramite appunto i nostri investimenti. E la commissione dell'1% invece viene bruciata, quindi nel momento in cui noi andiamo effettivamente a comprare, la commissione dell'1% viene bruciata definitivamente, quindi non sarà più disponibile. Questa è la loro roadmap, è segnata con dei pallini gialli fin dove sono arrivati. I pallini dove non sono presenti effettivamente perché non sono ancora arrivati. Quindi abbiamo avuto il primo punto della roadmap che è il token creato, il token appunto distribuito dalla rete BSC, hanno creato Telegram, Discord, Twitter, bla bla bla, concorsi della community, sito web live, adesso andremo attimino anche a vedere che cos'è questo concorso della community con questo sito web, elencato su PancakeSwap, LP bloccato. Perfetto. Secondo punto che hanno raggiunto che è appunto il Q1, Q1 completato, quindi sono riusciti ad arrivarci. Abbiamo iniziato a fare marketing, quindi abbiamo iniziato a sentire influencer e quant'altro per poter farsi conoscere, per poter sponsorizzarsi. Prima donazione di 1000 dollari in beneficenza scelta dalla community. Sono stati listati su CoinGecko, elenco CMC Influencer e Marketing, primo AMA Live su Twitch, rilascio di white paper, quindi hanno rilasciato successivamente il white paper, non subito nel lancio del token, anche se è stato qua, è molto importante, poi dopo capiremo bene il perché. Concorso comunitario di 500 dollari e abbiamo raggiunto i primi 1000 di dollari. Ricordiamoci che questo qua è il Q1, loro ad oggi sono più di 6000 di dollari di questo token, punteranno nel Q2 ad arrivare a 10.000 di dollari, nel Q3 arrivare a 50.000 di dollari e nel Q4 ovviamente oltre i 50.000 di dollari. Però la cosa interessante della parte 4, quindi del quarto punto, è la donazione di oltre un milione di dollari. Cioè è veramente tanto, però loro sono sicuro che questo progetto riuscirà ad arrivarci. Nel punto 2, comunque sia, che dobbiamo ancora raggiungere, appunto attualmente vorranno ampliare quello che è la parte dell'influencer marketing, l'AMA vorranno farla settimanalmente, non più mensilmente e inoltre sono previste donazioni della community più grandi e rinnovamento del sito web e il portafoglio donazioni dirette, quindi sarà possibile donare direttamente senza dover passare appunto per l'acquisto della criptovaluta, poi si potrà donare direttamente a ente di beneficenza o magari a un portafoglio loro che poi gireranno la cliente di beneficenza per poter effettivamente perseguire il loro scopo finale. Q3, donazione di oltre un milione di dollari, NFT marketplace, quindi creeranno un sito dove si potranno creare e vendere NFT, merchandising, tutto quanto quello che riguarda probabilmente magliette, cappelli e che più ne ha più ne metta, l'espansione del team, quindi probabilmente una volta arrivati a questo punto avranno talmente tanti utenti, talmente tanta audience che dovranno effettivamente espandere il team, creeranno delle partnership con aziende, con persone fisiche e quant'altro, campagne di marketing e video e funzionalità di staking, molto molto interessante. Il Q4 l'abbiamo già visto, la parte più interessante per quanto riguarda la donazione di un milione di dollari e la creazione della nostra linea diretta per i suicidi, nel senso vorranno effettivamente creare una loro linea diretta che potrebbe essere molto probabilmente telefonica per poter magari aiutare tutte quelle persone che si trovano in un momento di estrema difficoltà e che pensano appunto di togliersi la vita. Ovviamente la loro roadmap continuerà. Per ora il loro orizzonte temporale arriva fino al Q4. Caratteristiche speciali di questo token appunto è tutta la nostra liquidità è stata bloccata entro la prima volta del lancio di Cryptex per sei mesi, questo verrà esteso. Siamo stati completamente controllati e abbiamo superato con un punteggio perfetto ogni test, non ci sono backdoor, quindi qualsiasi tappeto è impossibile. Cioè nel senso quindi qualsiasi cosa nascosta sotto il tappeto non è possibile trovarla. Puoi controllare l'audit facendo clic sull'icona del libro in alto. Infatti l'audit, il loro audit è questo qua. Andatevelo a leggere perché comunque sia è una cosa molto interessante, io me lo sono letto in parte e in inglese non è possibile tradurlo, quindi non lo riuscirò a leggere adesso qui a voi, anche perché ripeto non riesco a tradurlo in maniera simultanea. Comunque è spiegato molto bene e c'è scritto tutto quanto. Tornando di qua invece, crediamo che la fiducia sia la parte più cruciale di ogni progetto. Facciamo tutto in modo più trasparente possibile per aumentare la fiducia dei nostri investitori, ospitando Ama in diretta su Twitch ogni sabato. Fai clic sull'icona con il microfono qua sopra. Appunto questo qui per poterci collegare direttamente al loro Twitch e poter partecipare in maniera attiva alla chat e quindi anche appunto alle loro dirette. Le loro donazioni, vediamo effettivamente che le loro donazioni sono state inviate e a chi sono state inviate. Il video seguente è la nostra prima donazione registrata su Twitch, qui potete vedere una prova effettiva di come loro fanno queste donazioni in diretta su Twitch. Abbiamo donato 1000 dollari a Chris Tax Line, che è una fondazione appunto che si occupa di suicidi e quant'altro. Chris Tax Line fornisce supporto per salute mentale e interventi in caso di crisi gratuiti. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, di alta qualità, consentendo appunto alla comunità di volontari formati di sopportare alle persone nei loro momenti di bisogno. Quindi loro praticamente hanno una comunità di volontari che si offrono per poter effettivamente aiutare queste persone che hanno effettivamente bisogno di aiuto. Fondazione Gem, recentemente abbiamo donato altri 1000 dollari a un ente di beneficenza per la prevenzione del suicidio, noto come Gem Foundation, e anche qui abbiamo un video che testimonia la cosa. Ovviamente i video sono anche registrati sui VOD su Twitch. La fondazione Gem è fondata in memoria di Jacob Edward Machvoski, spero che si riusci così, che si è suicidato l'11 gennaio 2016. La fondazione Gem e noi condividiamo lo stesso obiettivo, migliorare la vita di coloro che soffrono di malattie mentali fornendo supporto ai propri cari. La fondazione Gem, questo qui è il direttore della fondazione Gem, che scrive una lettera appunto a Life Token per ringraziarli. Grazie al nostro gettone e alla sardina comunità che abbiamo costruito, siamo stati in grado di pagare per due adolescenti che stanno lottando contro la depressione e sono attualmente nel punto più basso della loro vita. Perché ovviamente questi enti, queste fondazioni, si occupano soltanto appunto di aiutare, quindi di prestare un primo soccorso, ma molto spesso, come appunto la Gem Foundation, si occupano anche di tutta la parte di riabilitazione delle persone e tutta la parte di riabilitazione di questi ragazzi, questi adolescenti, che si trovano per un motivo o per un altro in dei momenti della loro vita e pensano effettivamente che non valga più vivere. E quindi è molto importante secondo me riuscire a capire questo concetto, riuscire a capire che questo token non è assolutamente nato per poter guadagnare tanto, ma è nato più che altro per poter aiutare le persone. Ed è molto importante. Abbiamo detto anche prima, li possiamo trovare su BSC Scan, CoinGecko, Nomix e qui, questa qua è la parte appunto del loro Smart Contract Audit. Carta bianca Audit, questa qui è la loro squadra, è composta da due persone, il manager che sarebbe Nils, che vive in Olandia a 24 anni e invece Paco, il PR manager che invece è in Italia. Sono esperto di gestione di social media, ho a che fare con centinaia di aziende B2B per fare raggiungere obiettivi bla bla, con sede in Italia, sono uno studente di fisica, computazione quantistica. Abbiamo tutta la parte poi delle FAQ, quindi che cos'è Life Token, la previsione dei prezzi del futuro, questa qua secondo me è molto interessante, anzi è molto importante poter rispondere in maniera corretta a questa domanda. Previsioni dei prezzi del futuro, comunque sia la prima cosa che noi facciamo quando andiamo a cercare una cripto nascente è quanto potrà crescere fondamentalmente, potrà arrivare a un per cento, un per mille, ormai si sente soltanto parlare di questo. E loro rispondono in questo modo, per favore non ci confondete con le innumerevoli monete meme, moon, costruite per l'AIP, stiamo costruendo un progetto a lungo termine con un vero scopo che è quello di salvare vite umane. Ed è molto importante che loro abbiano precisato questa cosa qua, ed è anche il motivo per cui fondamentalmente Life Token, magari c'è chi la conosce ma ancora non ha investito in questa cripto, in questo progetto, perché ad oggi sul mondo cripto, soprattutto in quello che è le piccole coin nascenti, si punta a sfruttare appunto il pump e l'AIP della cripto per poter poi effettivamente arrivare ad avere un guadagno più che buono. Life Token è stato verificato, siamo stati appunto completamente controllati e abbiamo superato un punteggio perfetto ogni test, non ci sono backdoor, quindi qualsiasi tappeto è impossibile, puoi controllare l'audit qui. Ovviamente questo qua è tradotto male da Google Traduttore, però semplicemente non è possibile, potete trovare inganni o comunque sia polvere sotto il tappeto, quindi cose nascoste dentro il loro progetto. C'è anche una sezione dove ti puoi mettere in contatto direttamente con loro. Bene, questo era Life Token, credo che sia veramente un grandissimo progetto, molto forte, che avrà un grande successo un domani, me lo auguro veramente tanto più che altro perché le loro intenzioni sono ottime, sono veramente bellissime per quanto mi riguarda, ed è importante poter aiutare le persone quando si trovano nel momento più basso della loro vita, perché molto spesso sembra assurdo, però quando ci troviamo in momenti così bassi, in momenti così diciamo bui nella nostra vita, è difficile che riusciamo a chiedere aiuto. È una cosa molto delicata, non è di mia competenza poterne parlare, né tantomeno è di mia competenza poter effettivamente dire si hanno questi sintomi, si può vedere da queste cose, cioè assolutamente no, non posso dirlo, per quanto comunque sia, ripeto, è un progetto con uno scopo molto onorevole e che punta a voler aiutare veramente tantissime persone che ad oggi magari neanche riusciamo a saperlo, perché molto spesso ci capita di dover passare accanto alla persona e non sappiamo che magari quella persona sta affrontando un momento difficile, un momento brutto. Ecco, sapere che ci sono delle fondazioni, sapere che ci sono degli enti che ti aiutano non è più facile, perché stranamente è più difficile riuscirsi ad aprire con familiari e amici piuttosto che con persone magari che sono sconosciute e quindi questi enti e queste associazioni si prefissano l'obiettivo di aiutare queste persone appunto che si trovano in un momento più basso o più buio con cui siete la loro vita, tanto da dover pensare che la loro vita non vale più la pena di essere vissuta. Io ragazzi spero veramente che questo progetto interessi molti, che possa riuscire a toccare tante persone, non soltanto italiane ma che possa toccare tutto il mondo e possa toccarlo anche al di fuori della semplice donazione perché possiamo fare tanta differenza in generale anche semplicemente parlando con le persone ma anche semplicemente scambiandoci delle parole, perché molto spesso queste persone sono persone che richiedono attenzione e che difficilmente riescono a dimostrarlo o magari se ci provano difficilmente lo riescono a ricevere indietro perché c'è tanta diffidenza e soprattutto in questo periodo di pandemia è molto difficile per le persone del genere che sono rimaste magari chiuse in casa, inascoltate, quindi vi chiedo veramente di poter far arrivare questo video a tantissime persone. Io credo molto nel loro progetto, nella loro idea e sono sicuro che a prescindere da quello che possa essere il valore intrinseco della cripto in sé per sé il fatto di doverci investire un pochettino in questo token penso sia anche una specie di donazione nel punto di beneficenza che possiamo fare. Se proprio non riusciamo a fare altro appunto aiutare loro a crescere e aiutare loro ad arrivare a più persone possibili credo che sia veramente fondamentale. Io ragazzi spero sia stato utile questo video che comunque sia possa aiutarvi a tutti quanti a poter conoscere di più appunto il mondo delle cripto e soprattutto i veri progetti a lungo termine che valgono veramente la pena di essere conosciuti e sulle quali vale veramente la pena poter investire. Io auguro a questi due ragazzi di poter crescere velocemente e di poter raggiungere tutti quanti i loro obiettivi per poter aiutare più persone possibili. Io come sempre prima di finire il video vi chiedo di potervi iscrivervi al canale, mettete un bel like a questo video più che altro non tanto per il video in sé per sé che magari potrebbe essere anche fatto male, potevo spiegarlo meglio, insomma ci sono tante cose che possono essere fatte meglio, più che altro per il progetto. Quindi fatelo arrivare a più persone possibili, commentate con domande se avete domande su questa cripto, commentate come sempre se avete domande su altre cripto che vi interessano e noi ci vediamo in un prossimo video. See you later, ciao ciao!